Lutto nella televisione italiana è morto Tommasino Accardo, storica spalla di Fiorello in tv e pubblicità. È stato proprio il famoso conduttore ad annunciare la sua perdita sui social con un semplice ciao. L'attore aveva 84 anni ed era nato a Gibellina in Sicilia. Moltissimi piccoli ruoli attivi nel cinema come ad esempio quello in mezzo destro e mezzo sinistro, due calciatori senza pallone con protagonisti Gigi e Andrea. Ma la notorietà arriva quando Fiorello lo volle con sé nel suo varietà. Stasera pago io. Famosi sono diventati i loro sketch che hanno fatto ridere milioni di italiani. L'ultima apparizione di Tommasino insieme a Fiorello risale al 2008 nel programma Viva Radio 2. Piccolino con il baffetto, il volto buffo e la coppola. Questa era la sua immagine, l'immagine di una persona popolare, solare, legata moltissimo alla Sicilia e che la gente sembra non aver dimenticato.